Ma guarda, io non faccio più la maestra e la professoressa da un sacco di tempo, quindi è insomma anche un'esperienza che ho fatto negli anni. Mi hanno chiesto di fare questo incontro con i bambini, perché insomma per raccontare com'è la letteratura dei bambini adesso. Io mi sono avvicinata a questo mondo che non conoscevo francamente e ci sono dei libri per bambini meravigliosi. Quindi vi invito a comprare libri per bambini illustrati da degli artisti pazzeschi che veicolano anche dei bei messaggi.